Costatazione di morte Venezia 25 novembre 2021 Il sottoscritto dottor Stefano Coletto, curatore dell'istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa e il professor Paolo Gallina, docente dell'Università di Trieste e autore della performance artistica denominata La morte dell'algoritmo certificano che il giorno 25 novembre 2021 alle ore 19.30 in località Chiostro, Santissimi Cosme e Damiano, La Giudecca, Venezia hanno constatato l'avvenuto decesso dell'algoritmo denominato HEMBOT nato il 6 giugno 2016 all'Università di Trieste, edificio C5, Robotics Laboratory, Via Valerio X, Trieste residente all'Università di Trieste, edificio C5, Robotics Laboratory, Via Valerio X, Trieste certificano inoltre che a giudizio dei sottoscritti trattasi di morte per volontà dello stesso algoritmo avvenuta alle ore 19.30 del giorno 25 novembre 2021 grazie a tutti